Mentre Lazio-Torino ha fatto scoppiare un caso scottante, ieri la Juve dopo qualche difficoltà ha battuto lo Spezia, hanno segnato Morata, Chiesa e Ronaldo, CR7 a 767 gol come Pelé, stasera toccherà il rimaneggiato Milan con il duo Leao-Rebic contro l'Udinese di un ex, Gotti-Ibrahimovic al Festival, domani toccherà l'Inter che non perderà la testa della classifica contro il Parma e anzi potrebbe allungare, vedremo inoltre se l'Atalanta terrà il passo delle altre contro il Crotone affidato a Cosmi, sa solo Napoli per Gattuso privo di Coulibaly una partita insidiosa. Nel derby americano di Firenze la Roma senza Gekyll cercherà di riprendere quota contro un avversario che cerca stabilità. Stasera il veleno del campanilismo nel derby genovese, la Samp è avanti al Grifone Benevento-Verona, Inzachi confermerà i sanniti, Juric aspetta i gol di Lasagna il Cagliari cercherà punti salvezza nella partita col Bologna Nel weekend Inter-Atalanta, Verona-Milan e Juventus-Lazio un programmino niente male Grazie per la visione! Grazie! Grazie!